La musa è un tipo di corna musa molto semplice come struttura, ha una canna della melodia e un unico bordone. Come tutte le cose semplici che non sono mai così semplici come sembrano, ha delle particolarità che la rendono unica. In sostanza il lavoro che io ho dovuto fare è un lavoro un po' di ricostruzione, cioè capire e cercare di immaginarmi come loro avrebbero potuto suonare all'epoca. Al di là del lavoro di ricerca è indispensabile mantenere una timpita. musicale continua sul territorio. musicale musicale per esempio suonando alle feste, alle feste da ballo. musicale 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 naturalmente tra le altre cose sono andato anche a studiare tutti gli strumenti originali, tutti gli esemplari antichi che ci sono pervenuti, che per quanto riguarda la musa sono circa una ventina. musicale 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 Grazie a tutti